Nazionale batte 38 a 17, la Nazionale italiana batte 38 a 17 l'Uruguay, conquista altri 5 punti, si porta 10 punti in classifica al primo posto, sicura della qualificazione per i prossimi mondiali visto il terzo posto e il punteggio che ha ottenuto. Adesso senza pretese giochiamole a mente libera contro Nuova Zelanda e Francia nella speranza di poter ottenere un'importante storica qualificazione. Movimento rugbystico che sicuramente sta dando grande soddisfazione, si sta lavorando per qualcosa di importante, con questo siamo sicuri della qualificazione dei prossimi mondiali, due vittorie importanti contro avversari sicuramente inferiori a noi, i bonus sono stati presi, ora bisogna cercare contro Nuova Zelanda e Francia di fare l'impresa. Forza azzurri, nulla è impossibile.